Israele è un paese in guerra, però io credo che si debba continuare a lavorare per la stabilità, la descalation, quindi l'obiettivo finale è quello dei due poveri e due stati. Ovviamente ci dovrà essere una fase di transizione, può esserci per esempio una presenza tipo quella che c'è in Libano dell'Unifil, da questo punto di vista si può trovare un accordo, ne abbiamo parlato, continueremo a parlarne, l'obiettivo è la pace, la descalation e la stabilità della regione.